Buonasera a tutti. Circa 35 anni fa, più o meno, 34, 1979, mi trovavo ad Arezzo al teatro Petrarca. Mi hanno detto che il teatro Guido Monaco non esiste ad Arezzo, per cui la mia memoria ha avuto un attimo di defiance, e mi trovavo con il coro Minatori Santa Barbara di Massa Marittima al concorso per musica polifonica intestato a Guido Monaco. Vi saranno venute già a mente un paio di considerazioni. La prima è che fine hanno fatto i capelli del vostro speaker e la seconda è perché ho cominciato a parlarvi qui mostrando un coro. Ho cominciato così perché la sensazione che si prova cantando in un coro è indescrivibile da un punto di vista fisico ed è basata sul concetto di risonanza, cioè la voce, come qualsiasi tipo di strumento musicale, si trasmette nell'aria attraverso delle oscillazioni fatte dalla rarefazione e dalla compressione dell'aria che fanno le onde sonore. E queste oscillazioni si riverberano all'interno dei coristi che cantiamo tutti, cantavamo tutti uno accanto all'altro, producendo una sensazione fisica straordinaria che favorisce e contribuiva anche alla particolare emozione che avevamo tutti in quel momento lì. Anche i nostri neuroni producono delle correnti, delle correnti di tipo oscillatore. Queste correnti possono essere registrate dalla superficie della nostra testa attraverso, avrete sicuramente sentito parlare, l'elettroencefalogramma e vedete che tutti questi segnali oscillatori che direi rappresentano un codice incredibilmente sofisticato di comunicazione tra questi gruppi di network, di neuronali, sono molto complesse e sono formate da una serie di oscillazioni di base che vengono identificate attraverso, a seconda del loro periodo, vedete cinque oscillazioni al secondo, dieci oscillazioni al secondo, venti, trenta, con delle lettere greche dell'alfabeto. Quindi trenta sono le oscillazioni più lente, alfa e beta quelle intermedie, gamma le oscillazioni quelle a frequenza più elevata. Questo stesso tipo di oscillazioni, beta, alfa, beta e gamma, siamo in grado di produrle dall'esterno, sulla superficie della nostra testa, in modo del tutto non invasivo, con correnti impercettibili dai soggetti, di bassissima intensità, un miliamper ma anche meno, e possiamo essere in grado di fornire al nostro cervello, attraverso degli elettrodi o dei caschetti particolari, quindi la corrente con l'oscillazione che noi vogliamo, nella regione che vogliamo, o simultaneamente nelle regioni che noi vogliamo. Che cosa succede nel nostro cervello quando forniamo questo tipo di corrente oscillatore? Un fenomeno che si chiama entrainment, trascinamento. Dovete pensare ad un neurone come un singolo elemento oscillante, quindi per esempio tre neuroni che oscillano in modo un po' anarchico, ognuno in una direzione particolare, quando questi gruppi di neuroni sono sottoposti ad una forza esterna, che in questo caso è la nostra corrente oscillante che applichiamo, tendono a sincronizzarsi fra di loro, cioè ad avere quello che si chiama un allineamento di fase delle oscillazioni e a produrre un progressivo incremento di ampiezza del ritmo che noi stiamo intercettando. È un po' quello che succede per chi suona qualche strumento, per chi suona la chitarra, quando accordiamo la chitarra, che premendo la corda la al quinto capotasto fa sì che risuoni e produciamo la nota re, fa sì che la corda del re cominci ad oscillare in modo consono con quella che stiamo pizzicando. Oppure per chi non è musicista e chi si occupa di sport potrebbe essere un buon esempio quello di una barca in cui gli otto rematori sono sincronizzati a remare allo stesso modo dal capo voca e così la barca va più veloce. È chiaro che se il ritmo cerebrale che a questo modo io riesco a modulare, riesco a modificare, sostiene, è necessario per una determinata funzione cerebrale il suo potenziamento produrrà probabilmente una modifica della prestazione in quel tipo di task. In questo modo con questo approccio noi ma anche altri gruppi nel mondo ovviamente siamo stati in grado di modulare differenti aspetti, differenti task di tipo mentale e cognitivo, per esempio è possibile migliorare alcuni aspetti di percezione tattile, di esplorazione tattile applicando delle correnti alternate in banda alfa, cioè quelle di oscillazione intermedia. siamo stati in grado di interferire con alcuni aspetti legati al movimento volontario utilizzando che ho fatto? Utilizzando delle correnti in banda beta oppure per esempio utilizzando delle correnti un po' più lente in banda teta siamo stati in grado di modificare, di migliorare transitorialmente alcuni aspetti legati a processi di memoria in soggetti normali o ancora utilizzando un ritmo alfa nelle aree visive, alcuni colleghi sono stati in grado di migliorare alcuni aspetti della percezione visiva. Noi ci siamo spinti un pochino oltre, diciamo, abbiamo pubblicato un lavoro lo scorso anno e abbiamo cercato di migliorare alcuni aspetti legati a quello che si chiama intelligenza fluida. Per capire cos'è l'intelligenza secondo me è fondamentale rifarsi a questa definizione del regista Mani Monicelli su che cos'è il genio, fantasia, immaginazione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione, esemplificato nel film Amici miei dalla creazione istantanea degli scherzi che facevano questo gruppo di amici. Ovviamente in un contesto sperimentale abbiamo dovuto adattare il task di intelligenza fluida e abbiamo utilizzato la soluzione di queste che si chiamano matrici di Raven, che è un giochino cognitivo che è sotteso da un ragionamento di tipo logico molto profondo e si tratta di trovare la soluzione a questa serie di 9 elementi scegliendola fra gli elementi a disposizione qui sotto. Abbiamo sottoposto una sessantina di soggetti a questo tipo di task durante una stimolazione alternata in differenti bande di frequenza sulla regione prefrontale di sinistra e quello che abbiamo trovato è questo. In queste barre rosse vedete c'è il tempo necessario ai soggetti per risolvere correttamente questo tipo di task e questo tempo si riduce di circa il 20 per cento che non è poco in ambito cognitivo, in ambito cerebrale, ma la cosa interessante è che non si riduce in modo uguale in tutti i soggetti, cioè chi era già abbastanza rapido, i fast performance in condizioni basale non ha avuto nessun beneficio dalla stimolazione, mentre quelli che erano più lenti sono proprio quelli che hanno migliorato. Questo apre delle prospettive etiche rilevanti perché è un po' un modo per, diciamo, azzerare o comunque ridurre le ineguaglianze cognitive che ci sono fra me e ognuno di voi, però se voi pensate che questo tipo di approccio potrebbe essere utilizzato per esempio in uno studente, in un ragazzino che ha dei disturbi di tipo attentivo all'interno di una classe in cui invece altre persone non hanno questi disturbi, potrebbe essere un modo per aiutare questo ragazzino o per aiutare anche per esempio i soggetti anziani che cominciano ad avere dei disturbi di tipo di memoria. Questo approccio che vi ho presentato è un approccio abbastanza di frontiera nel campo della neuromodulazione che per altri versi è già una realtà clinica per alcune malattie di tipo neurologico e psichiatrico cronico che prevedono anche degli interventi di tipo chirurgico. Grazie dell'attenzione.